Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. A San Benetto, spiaggia libera tra le concessioni 42 e 43, attrezzata per i disabili con alcune novità, grazie alla collaborazione tra il comune di San Betto e la Croce Rossa Italiana. Sì, abbiamo voluto continuare questo lodevolissimo progetto iniziato lo scorso anno, che prevede appunto una spiaggia accessibile non solo alle disabilità, ma anche alle mamme con i passeggini, agli anziani con difficoltà di deambulazione e l'abbiamo voluto migliorare, perché come sempre quando si iniziano le cose e poi vanno migliorate, si vedono magari le cose che non andavano, che possono essere migliorate. Abbiamo messo un parapetto di fronte agli spogliatoi, abbiamo aumentato la dotazione di zone ombreggiate, abbiamo messo a disposizione dei lettini, anche degli ombrelloni grazie alla Croce Rossa che metterà appunto a disposizione degli ombrelloni normali che verranno messi sulla spiaggia libera. Abbiamo aumentato la dotazione di job, in particolare una rimarrà qui fissa, ben accessoriata, e altre due verranno messe a disposizione degli chalet. Non è mai abbastanza, tant'è che per il prossimo anno prevediamo di iniziare ad allestire anche la seconda spiaggia accessibile, prevista dal piano spiaggia del 2010, prima della Sentina si trova, per cui saremo ad allestire anche quella. Non mi vorrei sbilanciare, però ci provo, questa volta mi voglio sbilanciare perché ci crediamo, ci crediamo fortemente. I servizi che offriamo sono una spiaggia attrezzata ad alta accessibilità, dove troviamo degli ombrelloni capienti, una passerella, quindi tutta la parte della spiaggia è adibita con una passerella in modo che lo stazionamento rimane più agevole per le persone diversamente abili e mamma è in dolce attesa. Abbiamo la possibilità di avere le sedie per job e sofà o per fare il bagno in mare. Abbiamo i lettini, prendisole, che sono differenti dagli altri perché sono fatti apposta per le persone diversamente abili. In più, quindi, è possibile prenotare sia l'ombrellone sia la sedia per il bagno attraverso il sito internet www.crisanbenedettodeltronto.it oppure attraverso il numero telefonico 0735 78 11 80. Insieme a questo, che è diventato il centro operativo balneare per questa stagione e per le prossime che verranno, abbiamo anche il ciclo soccorso come ogni anno e in più quest'anno avremo anche i due monopattini con il difibrillatore a bordo.